12 marzo 1992. Il parlamentare democristiano Salvo Lima, leader della corrente politica capitanata da Giulio Andreotti, viene ucciso dalla mafia a Palermo. La fine violenta di Lima è legata ai suoi rapporti con la mafia, rapporti noti anche alla politica, visto che il suo nome è comparso spesso nelle relazioni della Commissione parlamentare antimafia e per ben quattro volte è stata chiesta l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. La vicinanza di Lima ad Andreotti alimenterà le accuse di associazione mafiosa anche per il senatore a vita, che a conclusione del processo di Palermo nel 2003 verrà assolto per i fatti successivi alla primavera 1980. Per quelli precedenti la Corte ravvisa l'associazione a delinquere, ma il reato sarà estinto per prescrizione.